A cosa serve imparare? A volte gli argomenti che trattiamo a scuola possono risultare noiosi o astratti. Agli studenti non è sempre chiaro perché siano utili le competenze che apprendono. Come possiamo creare un contesto in cui l'apprendimento è concreto e collegato alla realtà quotidiana degli studenti? Attraverso il Project Based Learning. Il Project Based Learning o apprendimento basato sui progetti è un approccio didattico mirato a favorire gli apprendimenti attraverso lo sviluppo di progetti. Un progetto ben strutturato può essere un modo efficacissimo per sviluppare competenze e collegamenti interdisciplinari. In questo approccio gli studenti collaborano per sviluppare un progetto complesso che ha bisogno di più iterazioni, di capacità organizzative e di confronto col mondo esterno. Grazie a questa caratteristica si creano ponti tra gli apprendimenti degli studenti e il mondo fuori dalla scuola. Per fare in modo che gli apprendimenti rimangano sempre al centro e per evitare lo sviluppo di progetti fine a se stessi serve un'attenta pianificazione. Nel Project Based Learning strutturiamo un percorso in cui tutti gli studenti siano coinvolti, il lavoro sia visibile e valutabile, gli apprendimenti non finiscano il secondo piano. Il Project Based Learning è un approccio molto efficace per sviluppare l'autonomia e la responsabilità degli studenti, favorendo anche il rafforzamento di competenze trasversali e disciplinari. Se pianificati attentamente i progetti possono permettere al docente di creare ricchi collegamenti interdisciplinari e di superare la percezione della scuola come estranea alla vita e agli interessi degli studenti. In questo approccio anche gli studenti meno ingaggiati possono trovare nuova curiosità. Inoltre l'enfasi data ai lavori di gruppo permette agli studenti di rafforzare notevolmente le proprie competenze socioemotive. Il Project Based Learning è un approccio altamente inclusivo perché mette insieme competenze tecniche, organizzative, disciplinari e trasversali, dando a ogni studente opportunità per mettersi in gioco e contribuire allo sviluppo di un prodotto.